Il Nilometro, una struttura gigantesca per misurare le piene del Nilo nell'antico Egitto. L'albergo dei poveri, un enorme edificio nel cuore di Napoli realizzato nel Settecento per i bisognosi. Il Torrazzo di Cremona, con il suo maestoso orologio astronomico. Storia e segreti del Pantheon di Roma, uno dei monumenti più visitati d'Italia. Questo e molto altro con Roberto Giacobbo a Freedom, lunedì in prima serata su Italia 1.